Qualche giorno fa il furto di 23 computer all'Istituto Brancati di Librino. Oggi a Palazzo degli Elefanti, durante un incontro col sindaco Enzo Bianco, l'architetto Mario Cucinelle, rappresentanza del gruppo G124, ha annunciato la donazione di alcuni PC per sostituire quelli rubati. Anche la ST Microelectronics supporterà la scuola, inviando altri 12 computer, ha affermato il direttore dello stabilimento di Catania, Francesco Caizzone. Da qualche giorno, inoltre, era già partita la raccolta fondi per l'Istituto da parte di Addio Pizzo. Una risposta chiara e immediata di tutta la città, ha commentato oggi in conferenza stampa il primo cittadino, rivolta a chi pensa di poter danneggiare il sistema formativo di Librino, che è un avamposto di civiltà. Tre volte abbiamo comprato dei PC, ha detto la preside della Brancati, Lucia Abramo, e tre volte sono stati rubati, ma stavolta sono piacevolmente colpita dall'interesse della città nei confronti della nostra scuola. La dirigente scolastica ha inoltre espresso soddisfazione anche per la recente vittoria degli omnicomprensivi, definendo importantissima la battaglia intrapresa dall'amministrazione per la creazione di istituti superiori al Librino. Il sindaco ha concluso ringraziando i carabinieri per l'impegno nel mantenere la sicurezza nel quartiere, auspicando che i colpevoli dei furti siano presto assicurati alla giustizia, e ha ribadito la volontà dell'amministrazione di dotare di un sistema di videosorveglianza la sede dei briganti.